Signore e signori, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, benvenuti a Venice Land! La manifestazione contro il progetto del Parco Divertimenti a Saccafisola è già stata fatta tre anni prima che il progetto esistesse. La storica protesta contro la Disneylandizzazione di Venezia esplosa nel novembre 2010 suona oggi come la voce inascoltata di una Cassandra. Noi l'avevamo detto e si sta verificando tutto quello che noi avevamo previsto. Venezia si sta trasformando in una Disneyland e addirittura adesso ce la costruiscono dentro. A questo punto, in vita con amaro sarcasmo, Matteo Secchi di Venezia.com. Chiediamo ai titolari del parco di battezzarlo veramente col nome da noi suggerito in tempi non sospetti. Lo dovranno chiamare assolutamente Venice Land, anche in onore a quello che abbiamo detto noi anni fa. Quello che manca in città non è certo l'offerta turistica, protesta l'associazione di residenti, ma una risposta ai problemi che inutilmente denunciamo da anni. Non abbiamo bisogno di altre attrazioni, siamo pieni di attrazioni. Venezia ha bisogno di case, di servizi, servizi per il cittadino. Siamo ridotti a 57.000 abitanti e andiamo ancora in cerca di fare altre cose del genere. Siamo inoltre sorpresi dalla facilità con cui simili progetti vengono sposati da quelle che dovrebbero essere le più prestigiosi istituzioni culturali della città. Caffoscari si sta schierando dalla parte della Disneylandizzazione di Venezia. Ci rendiamo conto? Siamo stanchi di tutto questo, concludono da Venezia.com e vogliamo lanciare un appello ai veneziani. È arrivata l'ora di ribellarsi. Vogliamo che gli abitanti ci diano di più una mano perché siamo soli contro tutti, anche perché siamo rimasti l'unica associazione qui a Venezia che difende Venezia e le sue tradizioni.